Il mio dovere è davvero, e oltre che straordinario piacere, essere anch'io qui come molti miei colleghi per sottolineare anche alcune valenze specifiche riferite alle mie competenze. Da un lato l'impatto sul mercato del lavoro, della produzione vinicola e della sua induzione. Tra l'altro un andamento di questo mercato del lavoro in controtendenza anche nel corso di questo tempo difficile. Cioè un andamento positivo. Dall'altro lato spesso l'attività vinicola, l'attività vitivinicola consente integrazione delle fasce deboli del mercato del lavoro. come ho visitato questa interessantissima attività che si svolge nella provincia di Treviso per il recupero di alcuni ragazzi. Dall'altra parte andrò a visitare San Patrignano o dall'altra parte ancora anche il reimpiego di beni sequestrati alla mafia.